2.150 nomination per vari premi, 1.350 premi ricevuti, è cantante, attrice, ballerina e regista, 281 milioni di followers su Instagram, 7,8 milioni di like di media per ogni post su Instagram, fino a 2,6 milioni di dollari per una sponsorizzazione su un suo singolo post, 733% in più di ricerche su Google del brand Schiaparelli dopo aver indossato un loro abito durante le premiazioni ai Grammy. Nella stessa sera Google ha registrato un più 545% per la ricerca di collana con orologio, più 213% per la ricerca di abito corsetto e più 186% per la ricerca di guanti neri, tutti oggetti indossati proprio in quella serata. 49 canzoni del suo repertorio hanno raggiunto, ed ancora si trovano lì, la top 10 dei 100 brani più belli secondo il Billboard, 4,1 miliardi di dollari, è l'importo fatturato a seguito di un singolo tour nel mondo, mai artista nella storia della musica mondiale ha mai conseguito un tale record, 55 milioni di dollari, è la cifra che ha donato a tutto l'immenso staff che segue il tour, 93 milioni di dollari, è l'importo che in media viene speso dai suoi fans in ogni singola data del suo tour, 3 milioni di dollari, è l'importo derivante dalla vendita di perline e braccialetti dell'amicizia in plastica, venduti ad ogni singola data del suo tour, 250 milioni di dollari, è l'importo del ricavato dei biglietti venduti nella prima settimana di uscita del docufilm legato al suo tour, più 63% di donne che hanno iniziato a tifare i Kansas City Chiefs, la squadra di football nella quale gioca il suo ex fidanzato. A fronte di tutti questi numeri che farebbero impallidire un Michael Jackson all'apice della sua carriera, una domanda ancora non trova una risposta. In tutto quello che fa Taylor Swift, il suo talento che giustifichi questa fabbrica di soldi, qual è esattamente?